In realtà dagli antichi greci mi preparavano. All'inizio fu considerato un alimento principesto e prezioso. Poi col passare del tempo sono diventato un alimento amato da tutti. Anche perché sono nata a tutti, bambini e anziani. E sono ideale a colazione a melena. E anche le dolce e le dolce. Perciò ripetitemi verso di Enca con te coppie frutta.